Ma andiamo a vedere questa MaxiCoupon, questa emissione di MaxiCoupon con i diversi sottostanti, i's, le peculiarità, così come ci puoi declinare tu? Ma no, il concetto generale dietro questa emissione è che il momento di mercato creava tanto spazio per la struttura, quindi tanto spazio per la struttura significa con volatilità elevata, con tassi in rialzo, con discese dei sottostanti, abbiamo potuto arricchire al massimo queste strutture che stiamo per vedere. Sono 13 prodotti che abbiamo lanciato giovedì scorso e li abbiamo voluti distinguere in tre tipologie diverse. Quindi 5 prodotti, anche proprio per una questione di permettere all'investitore da subito, con un'unica emissione, di programmare gli ultimi mesi dell'anno. Sono 13 prodotti, 5 dei quali hanno rilevazioni mensili. Rilevazione mensile, li conosciamo tutti gli ultimi prodotti di Fontobel, sono con rilevazione mensile bene o male, ma rilevazione mensile significa nel caso pratico che a novembre staccheranno un MaxiCoupon. I successivi 8 prodotti invece hanno rilevazione bimestrale. Questo significa nel pratico che il premio non verrà pagato a novembre, ma verrà pagato a dicembre. Quindi già da adesso l'investitore ha la possibilità di scegliere o eventualmente distribuire in base a quando vuole incassare il MaxiCoupon. Bimestrale stacco a dicembre, mensile stacco a novembre, intorno proprio a questi giorni di novembre-dicembre, 13-14 se non sbaglio. I basket sono di tre o quattro titoli, abbiamo cercato per quanto possibile di tenerli settoriali, stiamo scorrendo, vediamo bancari, assicurativi, automotive o comunque focus geografico come questo basket italiano che stiamo vedendo, ma per aggiungere un'ulteriore possibilità, parlavi di autocollability Riccardo, gli ultimi otto con cedola bimestrale che staccheranno quindi a dicembre, a loro volta sono suddivisi in due categorie, perché ce ne sono cinque classici che non avranno la possibilità di rimborsare prima di giugno 2023, mentre gli ultimi che stiamo inquadrando proprio in questo momento hanno una peculiarità, proprio perché c'era spazio, abbiamo potuto inserire la possibilità di rimborso anticipato automatico già da dicembre 2022, cosa significa? Che potenzialmente con questi ultimi tre casi che stiamo vedendo, si incassa un maxi coupon di importo variabile in base al basket, 15 euro, 20 euro, e se non sbaglio l'ultimo è di 12, ma vado a memoria, contestualmente al rimborso anticipato, quindi dicembre, se tutti i sottostanti sono sopra al prezzo di riferimento iniziale, si incassa 12, 20 o 15 euro di maxi coupon e insieme il valore nominale indietro, per una plusvalenza che a quel punto non è solo teorica, ma è una plusvalenza definitiva entro l'anno. Sappiamo Riccardo che ci sono varie modalità di compensazione in base agli istituti che vengono utilizzati, degli intermediari che vengono utilizzati, ed ecco, per questo abbiamo proposto un'emissione variegata per dare la possibilità a tutti di pianificare gli ultimi mesi da un punto di vista fiscale e non, perché poi per lo spazio che c'era in questi prodotti, anche le cedole successive non sono da sottovalutare, perché siamo rimasti su 12 prodotti su 13 con un rendimento su base annua del 6%, senza tenere in considerazione i maxi coupon, quindi cedole mensili dello 0,5, cedole bimestrali dell'1% nel caso dei bimestrali, quindi 6% all'anno senza tenere in conto il maxi coupon, che ritengo sia da non sottovalutare, soprattutto per l'emissione di maxi coupon a cui siamo stati abituati in anni di volatilità bassa e tassi zero. E io ho un'altra cosa da sottolineare, perché stavo guardando, diciamo che la possibilità di scadere anticipatamente già nel giro di un paio di mesi è, è cavolo, è importante, è interessante, e appunto vediamo una scadenza molto in là nel tempo, 2027, quindi la possibilità davvero di intercettare la ripresa dei mercati, 2026, la soglia bonus al 10% per questo strumento, insomma. E ora che parli di opzioni aggiuntive intervengo e dico che nei giorni successivi, una settimana, la volatilità ha continuato ad aumentare, si è creato ancora più spazio per la struttura, quindi a questi primi 13 prodotti che abbiamo appena visto, ne abbiamo aggiunti due un po' particolari, perché, per farvi capire quanto spazio per la strutturazione c'è, tutte le caratteristiche che abbiamo visto le abbiamo mantenute su due nuovi prodotti lanciati ieri, ma oltre a tutte queste funzionalità, tutte queste caratteristiche, questi due ultimi prodotti hanno anche l'effetto airbag a scadenza, quindi per andare a proteggere ulteriormente l'investitore. Davvero interessante e volevo aggiungere un'ultima cosa, perché abbiamo visto, lo dicevi anche tu, una questione geografica settoriale, vi dicendo, titoli americani che certamente Wall Street non sta in salute, però abbiamo visto anche la reazione di ieri, sappiamo che vi sono le elezioni in vista, vi sono diversi elementi, diversi fattori, ecco, sono andato a prendere ad esempio il certificato su Uber, Tesla, Nio e ho visto che il prezzo denaro lettera è significativamente sotto la parità e questo non fa null'altro che incrementare ulteriormente il rendimento potenziale. Invece poi un'altra cosa, visto che durante la trasmissione si parlava di quella che è la forza, resilienza del mercato italiano, ho preso questo paniere con Eni, Mediobanca, Stellantis e Unicredit, e nonostante il discito degli ultimi giorni guardavo il valore di mercato del certificato, 97,98 denaro lettera, anche qui un rendimento che si va ad aumentare rispetto a quello che è già del maxi coupon, il 15% calcolato su un prezzo di 100, ma questo è un esempio concreto di strumento che potrebbe candidarsi a scadere anticipatamente già con il mese di dicembre 2022. Assolutamente e non so se hai la possibilità per rimanere in tema Italia, questa che tra l'altro che ha individuato è l'unica proposta con cedole successive del 0,5 bimestrali, quindi 3% annuo, lo vediamo, ho specificato che 12 su 13 hanno delle cedole del 6% su base annua successivamente al maxi coupon e quella è l'unica, ovviamente perché i titoli sono i più correlati tra loro per il momento, volatilità inferiore, è vero il dividend yield è abbastanza alto, ma c'era meno spazio per la struttura, non so se hai la possibilità di andare a inserire uno degli ultimi due airbag, perché li abbiamo fatti con Focus Italia proprio, posso dettarti l'ISIN o non so se ce li hai già a disposizione. Sì, assolutamente, dammi l'ISIN. Verona, 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 7 Verona, XJ1, è indicato airbag, giusto? Airbag, esatto, su Stellantis, STM, Tenaris e Unicredit, stesso prezzo peraltro rispetto a quello di prima, 100,40, 101,40, ti prendete conto della cosa airbag quando andate a vedere queste voci qui, ovviamente i term sheet, i kid, guardatevi sempre, per capire immediatamente se vi è l'effetto airbag, lo vedete qui, perché il valore di riferimento iniziale, prendo ad esempio Stellantis, vuol dire che quando è stato emesso il certificato, Stellantis è stata fotografata a 11,94 e 7 euro per azione, lo strike poi è stato posto a 7,16 e 8, cosa vuol dire che a scadenza voi non perderete niente, se no, cioè inizierete a perdere qualcosa solo e se Stellantis, e dico questo ipotizzando che sia il peggiore tra i titoli panieri, ma il discorso non cambia se fosse Unicredit, Tenaris o STM, ecco solo se Stellantis varrà meno di 7,16 e 8 euro per azione, corretto? Assolutamente, è una caratteristica che abbiamo imparato a conoscere, gli investitori apprezzano molto in caso di evento barriera scadenza, per renderla un po' più fruibile, le perdite vengono calcolate non dal prezzo di emissione, non dal prezzo fissato in fase di emissione, facevi riferimento a quell'11,9,4,7, ma da 7,168 e cambia la musica direi, perché se io calcolo le performance sotto barriera a partire da 7,16 è ben diverso che calcolarle da 11,94, quindi un esempio classico che si fa, quando c'è un airbag con barriera 50 le perdite vengono dimezzate, quindi se con un memory cash collect normale avessi avuto un rimborso di 40 euro, ecco con un airbag lo avrei avuto di 80 euro, qui la barriera è al 60, quindi ci posizioniamo su una via intermedia, ma comunque l'impatto difensivo si vede e si sente. L'unica cosa, pensi che io sono un uomo degli appunti, per valorizzare questo strumento che oggettivamente è molto bello, il valore della maxi cedola, quanto è in questo caso? Per il momento è possibile controllarlo all'interno del kid e all'interno del kid è ben specificato che la cedola è del 15. Oppure guardare InvestiV perché settimanalmente al venerdì vi proponiamo queste soluzioni davvero molto interessanti e firmate da Fontobel e se ci seguite lo vedete anche adesso in diretta abbiamo cercato l'ISIN e abbiamo trovato un prodotto freschissimo perché è stato portato sul mercato ieri, il fixing è avvenuto l'11 di ottobre e insomma questo segnalo anche mia nonna. Beh beh è anche una novità nel senso proprio per lo spazio che c'è in fase di strutturazione, un maxi cash collect con airbag non c'era mai stato, abbiamo notato che c'era spazio, sappiamo quanto ci sia bisogno oggi di ulteriori garanzie del payoff e per salvaguardare il payoff a scadenza c'era spazio, non abbiamo dovuto rinunciare né a maxi coupon né a cedole successive e abbiamo detto perché no, perché non dare questa soluzione. La volatilità spesso è un problema per gli investitori e per i mercati internazionali, la volatilità per gli emittenti di certificati è un'opportunità e qui troviamo la sintesi di tutto ciò. Grazie.